Ciao, sono Nicole. La mia idea di fotografia è sempre stata quella legata ad immagini patinate che sfogliandole sulle grandi riviste mi hanno fatto avvicinare a questo mondo, il mondo della fotografia, mondo dell'arte. L'esperienza in Raffles mi ha portata ad aprire i miei orizzonti scoprendo un mio lato artistico e professionale che ha fatto sì che diventassi la fotografa che sono oggi. Stare a contatto con i grandi nomi della fotografia, della curatela, della stampa, del settore è stato incredibile perché penso che se vivi nell'arte diventi tu stesso arte. Per me i concetti, la mia visione è alla base di tutto. Da lì nascono le mie immagini, le mie opere, le mie fotografie. Racconto sempre di me stessa e soprattutto racconto la mia storia. Questo è un altro grande insegnamento che ho scoperto da questi maestri. Nel mio percorso ho potuto coltivare due anime fotografiche. La prima ha una visione artistica, autoriale, che mi ha portata ad esporre in Italia e all'estero. E la seconda una visione pubblicitaria, commerciale, per produrre progetti per aziende, campagne, per brand, dando sempre un tocco artistico. Un'altra importante esperienza è stata circondarmi di contatti e coltivare un network di professionisti che ho avuto la possibilità di sviluppare e creare durante un anno in una città dinamica come Milano. Infine, credo che nella sua difficoltà il Master sia una di quelle esperienze che mi porterò per sempre con me, perché mi ha fatto scoprire chi ero, ma soprattutto chi voglio essere. Grazie a tutti.